Ciao a tutti, sono Narotus, bentornati sul mio canale. Solo un bravissimo avviso per ricordarvi che stasera dalle 9 alle 23.30 ci sarà il Glitcher Super Show. Non mancate, andremo in diretta live sui nostri canali Twitch che potete seguire in contemporanea dal link troverete i link in descrizione, inoltre potrete vedere la live anche da tutti i nostri canali YouTube. Noi faremo tutto il possibile per seguire tutte le chat e riuscire a interagire il più possibile con voi. Quindi mi raccomando, non mancate, alle 9 inizieremo sicuramente con The Binding of Isaac Afterbirth e poi andiamo avanti con dei seguenti che ancora sono da determinare, però voglio fare il vago e lasciare un alone di mistero attorno a ciò che avrà fatto stasera. Vi aspettiamo in tantissimi, non mancate, ciao!